Una giornata, una mattina, una messa per dire grazie al Signore dei raccolti dei campi e dei prodotti della terra, un evento da sempre sentito, specie nelle nostre terre che da sempre vivono di agricoltura e che ha vissuto il proprio apice provinciale. Domenica mattina a Casal Maggiore sede scelta in questo 2021 per la festa del ringraziamento provinciale organizzata da Coldiretti Cremona. La messa, celebrata dal cappellano di Coldiretti Don Emilio Garattini che ha benedetto i trattori fuori dal sagrato della chiesa al termine della celebrazione, è stata aperta dalla sfilata con la presentazione dei doni all'altare alla presenza anche del padrone di casa, il parroco Don Claudio Rubagotti, di Don Arrigo Duranti e di altri sacerdoti del Casalasco. Estese è ricca anche la rappresentanza del mondo politico con il senatore Luciano Pizzetti, il sindaco di Casal Maggiore Filippo Buongiovanni e tanti altri primi cittadini sempre della zona casalasca, il presidente della provincia di Cremona Mirco Signoroni e ancora esponenti del mondo militare con l'arma dei carabinieri e la finanza ed economico con i vertici di Coldiretti Cremona, Paolo Voltini e il direttore Paola Bona in testa e tra tanti Gian Domenico Auricchio oltre a Guglielmo Belletti, presidente del consorzio Navarolo indispensabile istituzione per l'irrigazione specie nella zona Oliopò. Proprio Voltini ha voluto rimarcare quanto questo momento comunitario sia sentito da Coldiretti, testimoniato anche dall'ampia partecipazione nonostante la giornata segnata da una leggera pioggia e dal cielo plumbeo. Oltre a rendere grazie, ha detto Voltini, guardiamo alla prossima campagna e chiediamo la benedizione del Signore. Oltre alla parte sacra, che nella giornata del ringraziamento è dominante, ovviamente spazio anche per quella profana, con la curiosità legata al funzionamento dei mezzi agricoli, spiegato agli astanti e ai curiosi presenti, il mercato di campagna amica in piazza Garibaldi e soprattutto l'inaugurazione del rinnovato ufficio di zona Coldiretti a Casal Maggiore, col taglio del nastro nella sede di Via Cairoli. Da rimarcare pure la possibilità offerta ai presenti di gustare sul posto, in auditorium, i prodotti della terra, prodotti dagli agricoltori Coldiretti.